mister abramo capozzolo il pozzo bene purtroppo esce dalla sfida senza punti ma con un pieno anche di complimenti sì inizio dicendo facendo i complimenti entrambe le squadre perché stasera si è visto una partita diciamo così all'inglese se vogliamo dire ritmi alti abbiamo stato bellissimo capovolgimento di fronte azioni da una parte o dall'altra l'unica cosa che purtroppo non torna per noi il risultato una sconfitta che secondo me è immeritata però la dobbiamo prendere su ci prendiamo i complimenti che ci hanno fatto faccio i complimenti ai miei ragazzi perché veramente hanno fatto una partita bellissima e dobbiamo ripartire da qui una squadra che ha interpretato a nostro giudizio molto bene la gara con intensità sacrificio ha saputo soffrire sfruttato anche a parte forse l'ultima occasione l'occasionissima al novantesimo ma prima ha saputo sfruttare quello che le era capitato quindi complimenti anche per quello sì diciamo che siamo partiti forse meglio di loro abbiamo avuto le nostre occasioni mi ricordo già un paio di tiri all'inizio siamo riusciti ad andare in vantaggio abbiamo sbagliato una ripartenza che poteva essere da mettere davanti al portiere il nostro esterno e poi dopo chiaramente loro sono cresciuti loro giocano in casa qui se non sbaglio dall'anno scorso mi sa che non ha vinto nessuno quindi sapevamo che era una partita dura sapevamo che il campo era caldo con i tifosi con tutto quindi loro avevano anche il dodicesimo uomo in più però abbiamo fatto veramente un primo tempo ottimo poi purtroppo siamo calati un pochino nella fase centrale del secondo tempo e abbiamo preso quei due gol nonostante questo comunque come dici tef negli ultimi cinque minuti abbiamo avuto due palle potevamo pareggiarla sicuramente abbiamo avuto la palla l'occasionissimo a salvataggio sulla quasi sulla linea a porta a porta sguarnita però ripeto dobbiamo ripartire da qui perché comunque noi siamo una squadra giovane una squadra che deve 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 fare esperienza e venire qua a Sant'Arcangelo e fare la partita che abbiamo fatto veramente tanti complimenti ancora ai miei ragazzi condividiamo pienamente punto analisi il ministro ha detto il Sant'Arcangelo ha fatto la sua partita come fa sempre in casa cercando di imporre il suo gioco avete ribattuto colpo su colpo poi come dicevamo alla fine l'occasionissima capitata sui piedi di un ragazzo della sua squadra e l'abbiamo vista però così anche un po' agitato giustamente su un episodio forse da rivedere verso la fine così magari a mente fredda cambia un po' il giudizio sull'episodio no no assolutamente no infatti ho parlato anche col mio con nicolini il collega dall'altra parte era d'accordo con me cioè palla che si è arrivato sulla gamba ma bloccata dal braccio c'era il giocatore che andava in porta era rigore tutta la vita l'arbitro non l'ha vista è stato un altro avviso peccato però ripeto rimane l'amaro perché il pareggio i ragazzi lo meritavano grazie a tutti